Se fino ad oggi il Movimento 5 Stelle si era opposto al progetto di trasferimento degli uffici regionali di Pescara presso un immobile situato nelle vicinanze dell'aeroporto per ragioni economiche, e cioè costi che avrebbero superato la spesa attuale, oggi il caso si arricchisce di un nuovo dettaglio. Sembra infatti che, dalle carte presentate in conferenza, nel 2011 il Comune di Pescara bloccò la medesima proposta a causa del cosiddetto vincolo della zona di tutela C del piano di rischio aeroportuale emesso dall'ENAC. Non si spiega dunque come nel 2013 lo stesso progetto fu approvato. C'è un piano di rischio aeroportuale imposto dall'ENAC, che è l'ente nazionale dell'avviazione civile, approvato dal Comune di Pescara che prevede espressamente che in quell'area dove insiste il complesso Lasiti non si può realizzare la sede della Regione Abruzzo. Punto. Basterebbe solo questo per bloccare la procedura. Alla luce di questo e di altri fatti, io ho invitato la Regione Abruzzo, i vertici politici e tecnico-amministrativi della Regione Abruzzo con tre lettere a bloccare questa procedura. Non siamo noi a dire no a questa procedura perché ce l'abbiamo con qualcuno. È la legge che impone il piano di rischio a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini per proteggere da eventuali rischi, da eventuali incidenti aerei che potrebbero impattare notevolmente sulle persone e sui cittadini.